... Stefano Paoli Già il campione italiano ...si molla portate con lui nella quarta stima Stefano Paoli secondo apporto Allora ci stai raccontando di un percorso particolarmente pensato in lice anche per il vento Il vento è salite però si sta a tenere una buona media ma sta a cosa di questa è una sofferenza ma è una cosa bellissima per il cliente e la prima volta sono talmente contento voglio ringraziare Pietro Salo e la manifestazione che mi hanno invitato e spero tornare Niente complimenti a tutti gli altri attenti e a fine della gara ma ancora un attimo Daniel intanto accogliamo a traguardo in questa posizione Sebastian Petraza per il giorno questa che ha lì per la posizione questa è un terzo porto per lui allora Daniel dicevi dei luoghi splendidi che avete attraversato non fanno pedalando e correndo adesso questa è la mia posizione i settori li stanno imparando e i pubblici li stanno imparando e ora anche i volontari e sicuramente nel futuro sarà anche una gara più internazionale e grazie allora grazie ancora Daniel Fontana vinci bravissimo Matteo anche giustamente affaticato